Soprattutto il dato che ci lascia un po' perplessi e ci fa riflettere che la prima fase non è stata gestita nel migliore dei modi è che ci sono 116 persone tra medici e infermieri che sono in isolamento. Quindi in qualche modo vuol dire che in primo momento c'è stato un contagio involontario da parte del personale sanitario che poteva essere evitato se in qualche modo negli ospedali tutte quelle patologie che potevano rientrare nella fattispecie del coronavirus venivano gestite diversamente. E quindi questo è un dato che non depone a favore del nostro sistema sanitario che però va ringraziato perché c'è da dire che il personale medico in questo momento e anche quello paramedico sta facendo uno sforzo per la tutela di tutti noi veramente importante. Ci sono delle misure straordinarie anche per il controllo delle persone che devono stare a casa. In questo momento l'unica cosa che si può fare per evitare il propagarsi del contagio, quindi per il contenimento, è fare in modo che chi deve stare nel proprio domicilio ci stia. E anche questo è stato oggetto della discussione, così come le misure che l'economia si aspetta da noi. Abbiamo una situazione che sta diventando molto pesante. Le associazioni di categoria ci chiedono di fare degli strumenti, inventarci degli strumenti per gestire questa emergenza che immediatamente dopo quella sanitaria diventerà economica, come probabilmente non abbiamo mai vissuto in questa e forse anche nella precedente generazione. Proprio questa mattina ho sentito un istituto di ricerca economica che mi diceva che nel secondo trimestre del 2020 i dati economici saranno disastrosi per tutta Italia, ma in modo particolare per le zone che sono state colpite maggiormente, come la nostra. Quindi dobbiamo fare in modo che ci siano strumenti di cassa integrazione straordinaria per le persone, per le imprese, le micro imprese, non solo per le grandi imprese perché il nostro è un territorio di micro imprese, quindi anche l'imprenditore è un lavoratore. Quindi ci rischia che in questo momento venga messo in ginocchio il nostro sistema economico. Si parla di un 2020 che chiuderà con un prodotto in tonno lordo a meno 100 miliardi e con un PIL a meno 5 punti. Quindi qualcosa di mai visto nella nostra storia dal quale dobbiamo far fronte immediatamente con degli strumenti che sospendano alcune imposte, le cartelle esattoriali, le tributi locali e sostengano davvero l'economia in una fase che sarà drammatica.